Siamo in diretta, ci siamo in diretta, stiamo attendendo i vari nostri rappresentanti di questo incontro stasera, ecco qua, che siamo in diretta, che abbiamo da poco cominciato questo incontro, visto che cerchiamo di rispettare i minuti, in questo caso stiamo anche in due minuti di anticipo. E' una bella serata di fine maggio, del 31 maggio, man mano stiamo uscendo dalle nostre case, quindi anche questo appuntamento è particolare perché non ci vede più chiusi e intimoriti, anche se sempre, come dire, attenti alla salute di tutti, alla salute collettiva. Parliamo di un argomento che riguarda invece persone che sono costrette a stare chiuse, quindi il fatto di stare ristretti, il fatto di stare dentro un luogo così staccato dalla vita, che separa, carcere vuol dire proprio che separa, come l'eremo delle carceri, chiamato così non perché c'erano le carceri dove San Francesco stava ad Assisi, ma perché era un posto separato, quindi un luogo separato. L'esperienza importante che facciamo come realtà di Città Nuova è una realtà editoriale anomala, nel senso che si regge in maniera fondamentale sulla vita, sull'impegno, sulle persone, sull'abbonamento delle persone che sostengono un progetto editoriale. Questa sera abbiamo la possibilità di mettere in evidenza questo pezzo di storia che parte dai territori, che parte dalle persone e ci siamo collegati pure con Davide Dionisi di Radio Vaticana, che è autore e porta avanti una trasmissione molto importante e significativa per tutto quanto quello che abbiamo a vedere con il mondo del carcere, che si chiama Ecellanti e poi lui ci spiegherà meglio di cosa si tratta ed è come dire una di quelle sinergie, una di quelle possibilità di rapporto che ci permette di poter lavorare nella maniera più adeguata. Si sta collegando con noi anche Marta Chierico che si occupa della promozione ed è come dire attiva nella rete di Città Nuova. Io proprio per addentrarci in quella che è la nostra storia e qual è anche il modo attraverso il quale ci vogliamo approcciare, ecco che anche siamo in diretta, si è collegata anche Marta Chierico, che appunto che si occupa è come dire l'anima delle relazioni su tutto il territorio nazionale di questa realtà di Città Nuova. Noi partiamo da un'esperienza, un'esperienza molto concreta che ha a che vedere con la città di Teramo. E quindi abbiamo qui Luisa e Amedeo Lisciani e ci facciamo raccontare da loro come è nata l'impegno sul carcere e qual è il legame che esiste con Città Nuova. Prego. Intanto, vabbè grazie di questa possibilità, dietro di noi c'è una squadra ovviamente, noi siamo un po' i portavoce ma noi crediamo nel noi, verrebbe da dire, nel senso che solo insieme si può lavorare e anche andare. Tutto è nato praticamente 5-6 anni fa, quando essendo sempre un po' affassionati di Città Nuova, non perché dovessimo fare i promotori della rivista, ma per la metodologia della rivista, per la vita che porta, che mette insieme le persone e anche negli articoli, alle volte quelli più veri che toccano l'umanità più cruda, però c'è sempre una luce, spinge sempre alla fratellanza e quindi è che siamo tutti fratelli. Allora, da questo principio, 5-6 anni fa erano stati donati alcuni numeri di Città Nuova, prima la spicciolata, da parte di tutti i nostri amici di Teramo, da tanti, e poi però c'è stato un episodio particolare in cui una nostra amica ne ha donati 10. A quel punto, tra l'altro in un momento difficile della sua vita ha fatto questo gesto di generosità, a quel punto ci siamo detti, eh no, qui adesso dobbiamo seguire questa esperienza, questa donazione. E così ci siamo messi insieme, abbiamo capito insieme cosa si potesse fare, come, e quindi è nata l'idea di un progetto, proprio progetto lettura di Città Nuova insieme, perché si rischiava che Città Nuova arrivasse pure nel mondo delle carceri, ma che magari rimanesse accantonata, impolverata, perché a volte succede così. Come poi in realtà abbiamo scoperto che questi numeri non, per un motivo, ma certamente non per cattiva, per pensieri negativi nei confronti della rivista, ma come tant'altra stampa veniva messa lì e poi qualcuno anche ha confessato, che ha confessato, ha raccontato che veniva cestinata. E allora questo ci ha spinto veramente a prendere posizione, cioè insomma una rivista preziosa, frutto anche di insacrifici di questa nostra amica. e allora abbiamo, come diceva Luisa, abbiamo pensato di andare a indagare, di chiedere se questa rivista veniva distribuita, se veniva letta, e così poi. E da qui è nato proprio il progetto. Questo progetto richiedeva comunque entrare in una struttura carceraria che già è posta lontano dalla città, e inoltre chiedeva assicurazioni, quindi per poter entrare non sarebbe stato subito facile. Per noi è stato pure molto prezioso accogliere il suggerimento della responsabile dell'area trattamentale, che ci diceva facciamo una presentazione della rivista, perché in effetti non la conosciamo. E così è venuto anche Carlo, una domenica, durante le messe delle varie sezioni, dall'alta sicurezza ai protetti e poi alla media sicurezza, e lì è stata presentata questa rivista, con interesse e curiosità di tutti. Da quel momento in poi, seriamente abbiamo preso l'impegno, e quindi con costanza, fedeltà, davvero possiamo dire, ci siamo entrati. Eh sì, siamo entrati, inizialmente pensavamo di fare ogni 15 giorni, anzi abbiamo iniziato ogni 15 giorni, però quello che veniva con gli incontri con gli ospiti appunto della casa circondariale, si percepiva proprio fortemente il desiderio di vederci il più spesso possibile. Perché per loro in quel momento, prima era un'ora, adesso facciamo due ore, attualmente sono due ore di collovi, di scambio, di incontro, e loro proprio si vedeva che ne erano proprio affascinati, erano contenti. Anche se all'inizio, vedevo, e qui anche Luisa lo conferma, non riuscivano a capire che cosa andavamo a fare, perché sì, bene, leggiamo una rivista, leggiamo l'articolo, lo scegliamo insieme, però per loro abituati all'avvocato, all'acriminologo, all'educatrice, all'assistente, eravamo delle persone, non dico aliene, ma insomma la vicino, perché ci hanno chiesto qualche volta, ma voi che cosa venite a fare qua? Non riusciamo a capire, e qui c'è voluto veramente molta forza, molto amore verso la rivista, perché a qualche volta erano sette, otto, dieci, qualche volta erano uno, due, e quindi abbiamo continuato e... Finché il numero... Si è cresciuto, ma si è anche, come dire, sgretolata o si dissolta quel velo, diciamo, un po' di... non di diffidenza, di non credere... che non riuscivano a capire, e i legami sono diventati anche sempre più forti, e quindi anche è una situazione, davvero la mente, che cresce sempre, ecco, non è mai... non è statica, è dinamica. Ogni volta, dopo ogni incontro, torniamo a casa, intanto siamo stati noi cresciuti, perché ovviamente è un bene che riceviamo da loro, ma anche come... con qualcosa di nuovo, c'è sempre qualcosa di nuovo, magari è un racconto di un detenuto, un articolo, perché gli articoli anche sono... interrogano la persona, e quindi se anche non subito qualcosa viene fuori, a distanza riemerge. E sono nate anche delle amicizie forti proprio con... con chi scrive l'articolo. Per esempio, c'è una rubrica di Jesús Morán, che, diciamo, è un articolo anche molto impegnativo, eppure un detenuto non solo leggeva costantemente, ma proprio l'ha sentito... e legge il costantemente, ma proprio ha sentito la spinta a dialogare con il giornalista, ecco. Bene, io penso un primo, diciamo così, contributo che ci aiuta ad entrare anche in questo percorso che è comune, come abbiamo visto, perché abbiamo avviato da un po' di tempo anche, come dire, una specie di chiamata, adesso si chiamano le colla, voglio dire una chiamata collettiva tra tutti quelli che, in qualche maniera, legati a Città Nuova, hanno un rapporto con diverse realtà legate al mondo del, diciamo, del carcere, comunque della reclusione, degli istituti penitenziari, di quello che significa un mondo più che altro sconosciuto, anche se di per sé, pensate a Città Nuova che ha la sede a Rebibbia, voglio dire zona San Basilio, voglio dire, dove c'è una delle più grandi carceri che esistono in Italia, che quindi incombe proprio sul territorio, in tutte le sue, in tutta quanta la sua estensione, è quello che può essere come immaginario. Però, diciamo, rimuoviamo, noi siamo in un processo continuo di rimozione. In questo ci aiuta, per esempio, invece, appunto, il lavoro che fa con Radio Vaticana, Davide Dionisi, che, voglio dire, tu, dall'esperienza che fai, dimostri ogni volta con la trasmissione che c'è un mondo vasto, ampio, creativo, e per quanto riguarda proprio anche la locandina di questa sera, non abbiamo cercato di non mettere la solita immagine del chiavistello, del carcere, della persona regolusa, no? Ma dell'ascensione, del fatto di un percorso di liberazione che, come dire, è qualcosa che ci chiama a superare noi stessi, ci invera a noi stessi nel nostro percorso. Cosa è stato per te e che cosa rappresenta per te lavorare in questo campo? Buonasera, intanto, e vi ringrazio dell'invito. Sono onorato, intanto, di parlare, di stare insieme a voi, perché mi sento un po' a casa, come già vi ho detto, quando ci siamo visti, o abbiamo anche parlato, tra l'altro con Amedeo l'ho avuto ospite, è stato ospite il, se non vado errato, il 13 ottobre del 2019, in una delle nostre trasmissioni, aprendo un focus proprio sull'Abruzzo, tu sei stato ospite nostro, insieme al garante professor Cifaldi, e al cappellano, esatto, e c'era anche un docente universitario, professore, lo stesso, se non vado errato. Lo stesso, sì, lo stesso. Lo stesso, sì, il fatto appunto, anche lui è stato folgorato sulla via del carcere, perché è entrato quasi per caso, e poi alla fine ha dato vita, appunto, a un bel circuito virtuoso. Carlo, non voglio correggerti, ma non solo è il tra i più grandi europei, istitui di pena d'Europa, ma perché sono tre, ha tre direzioni diverse. Sottolineerei questo fatto che non è un dettaglio, perché come forse tanti non sanno, ma Rebibbia, avendo tre direzioni, significa che ha tre realtà diverse. Ci sono le donne, una direzione, ci sono i cosiddetti comuni, dove ci sono anche tanti ospiti in attesa di giudizio, sono oltre migliaia di persone che vivono lì dentro, e poi c'è la reclusione, e ci sono 350-380 detenuti nella casa di reclusione di Rebibbia. Senza poi parlare che ci sarebbe anche una quarta sezione, che sono i cosiddetti collaboratori di giustizia, che vivono in un plesso distaccato per ovvi motivi, rispetto agli altri tre, perché non possono avere contatti, come voi sapete, con l'altra popolazione carceraria. Vengo alla domanda e alla richiesta di Carlo. Dunque, noi abbiamo iniziato questa avventura non con i cellanti, ma con il Vangelo Dentro, che è stato appunto un'esperienza straordinaria, far leggere appunto nei tempi forti dell'anno liturgico ai detenuti il Vangelo del Giorno, quindi durante il periodo della Quaresima e durante il periodo dell'Avvento, la parola del giorno, e poi, senza alcuna rete, far interpretare la parola del giorno. Allora è uscito uno spaccato che ha delineato un carcere completamente diverso. Opportunamente Carlo l'ha definito pianeta sconosciuto, ma è un pianeta sconosciuto, però abitato da persone concrete, il carcere. Esistono, in sostanza, le mura che delimitano l'area di detenzione ma esistono e ce ne siamo accorti durante le cento puntate, siamo arrivati a cento puntate dei cellanti, a 450 ospiti in questi due anni. Anche le barriere del pregiudizio che in qualche modo segnano la dimensione di questa esclusione. Però noi siamo partiti da un presupposto, un presupposto che, Francescano, nell'accezione del mio datore di lavoro, che comunque la persona non coincide con il male che ha compiuto. Partendo da questo presupposto, abbiamo voluto accendere i riflettori solo ed esclusivamente, ma è stata una scelta editoriale questa qui, sui circuiti virtuosi che avvengono all'interno del carcere. Abbiamo raccontato, continuiamo a raccontare tante, tante storie. Tante storie e io vorrei in qualche modo sottolineare le storie proprio dell'ultimo anno. Perché dell'ultimo anno? Perché le storie dell'ultimo anno ci hanno ci hanno fatto vivere non una detenzione, ma una doppia detenzione che è stata quella della pena da scontare, ma è stata quella anche del coronavirus, quindi della pandemia. Perché è addirittura in alcuni casi anche una tripla detenzione, che è quella delle donne. Perché se vogliamo la donna poi patisce il carcere dal punto di vista proprio architettonico non nasce per le femminucce, ma nasce per l'uomo, quindi anche lì loro in qualche modo non solo sono ospiti perché hanno commesso un reato, ospiti perché poi vivono anche il dramma di essere mamme, di essere figlie, ospiti anche perché il coronavirus le ha completamente allontanate se non magari attraverso le videochiamate, ma è sempre il contatto fisico e poi sempre quello che Amedeo e Luisa se non vado errato, Luisa scusami, hanno sottolineato non apertamente, però hanno già anticipato quello che è il il segreto del loro stare in carcere. immagino che la ricetta fondamentale è quella dell'ascolto, cioè le persone che vivono, le persone private della libertà vogliono essere ascoltate, ma non essere ascoltate solo ed esclusivamente dal magistrato, essere ascoltate dal cappellano per carità, dal direttore del carcere, dal vescovo che viene, oppure dal religioso, dal missionario, oppure dall'unatantum, dalla visita che avviene una volta ogni mese, vogliono essere ascoltati costantemente perché dietro di loro c'è un vissuto, uno spaccato che tra l'altro come diceva bene Luisa ogni giorno ci insegna cose nuove. I cellanti vuole fare proprio questo, ha fatto e continua a fare proprio questo, a raccontare delle storie inedite senza pruriti giornalistici, attenzione perché io vedo che poi ci si va a occupare di carcere solo ed esclusivamente quando ci sono delle rivolte o quando c'è il detenuto che ha una particolare visibilità mediatica, quindi andiamo a scoprire come sta vivendo questo suo momento oppure magari il detenuto illustre cioè quello che ha avuto maggiore risalto all'interno dei media, dei giornali, del web è finito lì dentro e adesso come vive e continua a fare notizia non tanto per quello che sta vivendo lì dentro per quanto la situazione quanto per quello che poi alla fine potrà capitalizzare una volta uscito se lo farà ciascuno di voi ha capito sostanzialmente magari di chi sto parlando senza magari sottolineare che cosa abbiamo raccontato durante questo anno? Abbiamo raccontato di situazioni drammatiche abbiamo raccontato però anche bellissime storie di quella solidarietà che assolutamente non ti aspetti dalla volontà di ragazzi di ragazze anche di giovani perché abbiamo visitato anche minorile in questo momento cercando di tenere sempre testa l'attenzione su una realtà che troppo spesso è dimenticata perché diciamo la verità possiamo dircelo tra noi addetti ai lavori quello che è il sitito comune quello che è il volere comune è che chi ha commesso un reato l'importante è metterli dentro e poi buttare via la chiave questo non può funzionare non ha funzionato in passato non funziona oggi perché perché dimenticare le persone non vuol dire inserire in un circuito vizioso come quello del carcere una persona non vuol dire assolutamente punirla quindi da qui dobbiamo un po' ribaltare la nostra visione del carcere il carcere deve essere assolutamente un momento di riabilitazione di apertura di confronto perché tanti stanno lì dentro l'abbiamo scoperto attraverso la nostra trasmissione solo semplicemente perché magari sono nati e vissuti in un contesto sociale che purtroppo li ha penalizzati fin dalla nascita abbiamo scoperto ragazzi che volevano studiare però magari i genitori erano già in uno stato di detenzione già spacciavano droga già avevano comunque a che fare con un palazzo un ambito circostante legato strettamente a famiglie mafiose o magari dovevano obbligatoriamente io sottolino l'obbligatoriamente stare all'interno di questi circuiti perché comunque non c'era alternativa perché la scuola non esisteva mi raccontò un giorno un cappellano dei ragazzi che lui seguiva parlo di un minorile il cappellano mi disse sai Davide la prima cosa che faccio quando i ragazzi entrano qui dentro che cosa come mi rivolgo a loro che cosa gli spiego dico ma immagino non so io pensavo leggete il Vangelo insieme oppure un brano di letteratura oppure spieghi effettivamente come funziona il carcere non so le cose che vengono in mente a qualsiasi persona e magari non ha familiarità con la galera lui mi disse una cosa che mi sorprese tantissimo e disse guarda Davide io spiego ai miei ragazzi la differenza tra il giorno e la notte ignorano completamente che cosa si fa di giorno e che cosa si fa di notte loro non sanno che di giorno è possibile alzarsi la mattina alle sette andare al lavoro guadagnare mangiare alle tredici e trenta consumare un pasto alle tredici fare merenda insieme alle diciassette cenare alle venti e trenta andare a dormire alle undici alle ventitré e poi rialzarsi e ricominciare la giornata in questo modo fino a quando il sabato è il momento del riposo la domenica è il momento per quanto mi riguarda per chi di loro magari ha fatto un percorso anche di catechismo è il momento di andare a messa di pregare di vedere i compagni gli amici di fare una bella partita a pallone per loro non era così c'era da fare la vedetta alle 4 c'era da spacciare alle 5 c'era da taglieggiare prima della chiusura dei negozi il loro mondo ruotava attorno a questo paradigma che è completamente diverso ecco quando giustamente Carlo dice un pianeta sconosciuto è un pianeta sconosciuto perché lì dentro ci sono persone che non conoscono dove viviamo noi a volte io mi sento un corrispondente da un altro pianeta veramente da Marte proprio perché racconto delle cose che gli altri dicono ho visto le vostre facce seppur attraverso questo video quando attraverso questo dannato schermo spero che di incontrarvi di persona e di raccontare ho visto le vostre facce perplesse nel momento in cui ho raccontato del cappellano che spiegava ai ragazzi la differenza tra giorno e la notte ma le spiegava proprio perché loro non sapevano che durante il sole era un momento di attività di produttività e la notte è fatta per riposo quindi i metabolismo sono saltati tutti e questo a me ha colpito tanto e a me piace ripeterla questa cosa qua piace raccontarla come esperienza perché ho assistito anche vi racconto anche non vorrei monopolizzare per caricare vai 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 questo poi ci ritorniamo decidi decidi tu poi perché poi ho tantissime cose da raccontare racconti di vita racconti di sì mi ricordo per esempio ho trovato molto molto bello tra l'altro un'esperienza molto formativa portare i ragazzi delle guinte in carcere ci sono alcune scuole che hanno voluto insieme a me anche fare questo tipo di esperienza una scuola addirittura l'abbiamo portata a Paliano in una quinta liceo ovviamente sono tutti maggiorenni e un'altra ribibbia ricordo bene il volto e l'atteggiamento dei ragazzi prima di entrare emulando quelli che erano i loro idoli tra l'altro della narrazione della letteratura anche cinematografica parlo di Gomorra parlo di romanzo criminale e quindi s'atteggiavano immaginando un carcere come appunto il cinema ce lo ha raccontato nel momento in cui sono entrati al check e hanno consegnato fino a quando hanno consegnato il documento ancora erano lì lì a dire ah sì vabbè insomma da un po' da atteggiamento da bulli nel momento in cui l'agente di polizia penitenziaria gli ha chiesto il telefono spegnete i telefoni e li prendo io a quel punto già è cominciato il primo vuoto dopodiché varcando la prima soglia e costeggiando non so se siete mai stati a ribidia il lungo corridoio che li accompagna verso il teatro hanno i diciamo quelli un po' più diciamo meno più timidi hanno cominciato già ad avere un atteggiamento un po' come dire guardingo gli altri a mano a mano che siamo entrati all'interno del teatro dove avrebbero avuto un incontro sul bullismo con loro con i detenuti non hanno più parlato e sono rimasti in apnea che cosa è successo io sono rimasto dietro loro mi sono staccato per vedere nel momento in cui l'accesso per godermi tra virgolette ma qui appunto ci sta la l'elemento giornalistico la curiosità giornalistica per vedere nel momento in cui entravano nel teatro cosa avrebbero fatto allora voi allora io ho visto il gruppo di ragazzi che si è spostato proprio plasticamente tutta la destra quasi costeggiando il muro e lasciando tra chi sarebbe lì a poco venuto in teatro ossia i detenuti un barco di sette sette metri cinque sei metri nel momento in cui sono entrati hanno completamente cambiato faccia tre sono andati al bagno immediatamente e posso dirlo se la sono letteralmente fatta sotto quando hanno hanno visto li hanno visti dal vivo e hanno cambiato immediatamente atteggiamento poi loro chiaramente siccome poi hanno fatto parte della della redazione avevamo fatto una selezione tra i detenuti avevano fatto parte della della redazione del Vangelo Dentro e dei Cellanti perché ogni volta che entriamo abbiamo avuto anche la fortuna grazie ai permessi del dipartimento dell'amministrazione peritenziaria e grazie anche a direttori e direttrici illuminati sotto questo punto di vista di costituire delle mini redazioni giornalistiche di lavorare con me sia per i Cellanti sia per il Vangelo Dentro poi ma l'atmosfera vi posso garantire che non non si è mai sciolta è rimasta sempre piuttosto fredda fino a quando poi i detenuti si sono loro stessi avvicinati ai ragazzi e hanno raccontato un po' come era il carcere e sono usciti e hanno avuto so dai loro docenti che mi hanno raccontato guarda Davide è stata un'esperienza per loro illuminante per certi versi perché appunto loro hanno nell'immaginario collettivo questa visione che vi dicevo e hanno messo proprio in calendario l'idea proprio di di farlo come momento formativo dell'anno a fine anno per i ragazzi delle quinte poi torniamo appunto su altre cose Carlo torniamo su questo che penso che proprio l'importante è la continuità del rapporto come qualsiasi iniziativa non è quella del momento emozionale o quello che può essere l'unatatto è la continuità del rapporto che poi permane con le persone e quando si dice sempre persona abbiamo qui i fratelli Fortuzzi Emanuele e Matteo fanno parte di questa realtà viva sul territorio che attraversa quelle mura più volte che instaura rapporti cosa ha significato cioè innanzitutto far capire qual è stato il vostro rapporto come è nato e come sta andando avanti se ci potete dire anche voi qualcosa Si sente bene? Si Buonasera io sono Matteo lui e Emanuele Buonasera Buonasera Ma in realtà dico due parole su Sempre Persona come è nata e qual è l'essenza di questa associazione perché Sempre Persona è nata più di 20 anni fa quando Alfonso Di Nicola il fondatore di questa associazione ha risposto alla chiamata di un suo amico giudice che gli chiedeva guarda Alfonso ci sono delle famiglie di detenuti che versano in una situazione di grave necessità materiale puoi andare a dare una mano a queste famiglie visto che io a causa della mia carica istituzionale non posso far nulla quindi Alfonso ha risposto alla chiamata e è andato da queste famiglie ha portato dei beni di prima necessità e ha visto che queste persone li hanno spalancato le porte di casa perché sono rimasti colpiti dall'altro di gratuità di questo Alfonso che senza essere non per lavoro diciamo non essendo un'assistenza sociale andava da loro a donare e poi che è successo Alfonso è diventato un volontario all'interno del carcere e ha cominciato ad intrattenere dei colloqui con i detenuti e questi detenuti sapevano che Alfonso si prendeva cura delle loro famiglie fuori dal carcere e quindi Alfonso ci racconta che queste persone gli affidavano alle famiglie e poi che succede molti detenuti una volta usciti dal carcere hanno deciso di seguire Alfonso e quindi ha preso piede questa associazione che tra volontari conta come dicevo anche degli ex detenuti e cosa facciamo noi andiamo da queste famiglie e portiamo in genere dei beni di prima necessità cerchiamo da loro uno o più volte al mese e cosa abbiamo capito ci siamo più volte interrogati perché ci siamo detti certo portiamo questi beni ma non cambiamo la vita di queste persone con questi beni perché quando esci dal carcere se hai sul curriculum la detenzione il lavoro non lo trovi poi come diceva anche Davide i figli di questi detenuti ex detenuti vivendo in quelle zone così complesse noi operiamo soprattutto a Sorbella Monaca Ponte Mammolo la scuola non è più un'attrazione non è più una promessa di un futuro diverso e quindi non finiscono neanche il liceo e abbiamo capito che sbagliare è molto facile perché ci raccontava una volta un ex detenuto e l'altro si presentano con un pacco di cocaina in mano e ti dicono guarda la vendi in una settimana e c'è quei 2500 euro lavorando legalmente quei 2500 euro li fai in più un mese e allora ti capisci quanto è facile sbagliare in quelle realtà e crollano i pregiudizi come diceva bene prima Davide cosa facciamo noi abbiamo capito che più che compiere una donazione materiale doniamo noi stessi perché quello che vogliamo costruire con queste persone sono dei rapporti di amicizia dove questa donazione nostra non è che ha dei limiti perché diciamo abbiamo anche un po' capito come deve essere il volontario il volontario non è colui che magari vive la sua vita ordinaria poi ha del tempo libero e qualche ora di quel tempo al mese la dedica a queste persone è una donazione che non deve avere limiti per esempio oggi pomeriggi mi ha chiamato Elefia una signora che seguiamo mi ha parlato un po' dei suoi problemi così ci siamo confidati e si crea questo rapporto di reciprocità per cui non siamo alla fine noi che facciamo qualcosa per loro ma siamo noi che facciamo qualcosa insieme con queste persone cioè diamo vita a un modello di comunità basato sulla reciprocità perché poi loro sentono questa nostra gratuità questo nostro voler bene questo nostro amarli e poi loro anche si sentono di raccontare la poema di Emanuele le esperienze si sentono di dover amarci a loro volta e quindi nasce questo modello fondato anche sulla reciprocità e quindi si cadono i pregiudizi capiamo anche chi è il volontario il volontario appunto è uno che capisce che la propria felicità è legata a quella degli atti che non si è felice da soli e quindi è fondamentale anche scoprire una mancanza dentro di sé che ti fa dire ma io ho bisogno di quel rapporto lì mi capita più volte che magari sto un po' giù e mi chiamerò sarà un'altra signora che seguiamo e lei che mi tira su di morale attraverso una chiacchierata questa è la grandiosità del rapporto che si crea a Roma seguiamo più di 200 famiglie siamo una trentina di volontari speriamo come dice Alfonso che possiamo diventare a migliaia ecco dico un'ultima cosa come ci diceva un tempo la vice direttrice della casa circondariale di Re Bibbia di volontariato nel carcere nel carcere CNE fuori manca il problema è che appunto lo Stato dimentica queste persone qui che poi si sentono anche abbandonate dalla comunità e quindi la rabbia raddoppia questo ce lo raccontava Carlo un altro ex detenuto che seguiamo quindi è che abbiamo anche la nostra importanza di questi rapporti qui che poi ciò che prende forma è un bene relazionale che è una cosa estremamente rara diventa sempre più rara ma adesso siamo noi per raccontare nello specifico l'esperienza che viviamo sì praticamente oramai più di 4-5 anni fa insieme a mio fratello e anche ad altri ragazzi siamo rimasti un po' interessati affascinati da quella che era l'esperienza d'assunto allora abbiamo voluto provare anche noi e quindi siamo andati sì 4 anni fa da una famiglia a Torbella Monaca portando questo pacco di viveri una volta al mese allora nel tempo abbiamo costruito insieme a loro un forte rapporto una forte relazione proprio che creava quando andavamo da loro un clima di famiglia e il tempo che trascorrevamo con loro era molto gratificante cioè si riempiva in mente di felicità e allora mi vengono in mente alcuni momenti che abbiamo passati insieme ad esempio una volta insieme ai ragazzi un po' di a Torbella Monaca abbiamo deciso di organizzare una festa a sorpresa per Carlo insieme alla moglie Rota e quindi perché loro era da tanto che non andavano venendo a ristorante in pizzeria allora tutti insieme abbiamo deciso di portare questa famiglia insieme ai loro due figli in pizzeria e quando è stato il giorno del compleanno di Carlo tutti insieme siamo andati a mangiare una pizza ed è stato veramente bello possiamo condividere momentà però ci siamo per loro anche nell'ascoltare quelle che sono le loro problematiche le loro sofferenze perché alla fine questo è anche un elemento importante cioè esserci per loro anche in momenti di difficoltà magari non riusciamo a fare nulla però essere noi per loro una valvola di sfogo spesso per loro è molto importante e allora da un po' di tempo troviamo anche una famiglia a Ponte Mammolo è una famiglia molto numerosa che ha nove figli l'ultima figlia è nata qualche mese fa ed è stato bellissimo come in questi mesi insieme abbiamo aspettato questa bambina che nascesse allora ci aggiornava sempre magari ci mandava una foto della radiografia è stato veramente bello aspettare insieme a loro la nascita di questa bambina e ad esempio gli ultimi amici che siamo andati con loro da loro abbiamo festeggiato il compleanno di una figlia naturalmente essendo nove di compleanni ce ne sono tantissimi allora abbiamo portato una torta abbiamo spesso insieme a loro le candeline e abbiamo giocato proprio con loro ed è stato bellissimo come il Papa parlando con lui mi ha detto che quando noi andavamo da loro come dire lo sguardo dei bambini cambiava ed erano veramente contenti cioè loro aspettavano intensamente il nostro arrivo proprio per passare del tempo insieme insieme a loro e abbiamo giocato con loro per diverse ore e ultimamente seguo anche tre famiglie pietralata e in queste tre famiglie l'ultima volta ho portato anche dei ragazzi più giovani e andando a visitare l'ultima famiglia questo signore ci raccontava che praticamente la roba che portavamo a lui poi la dividete insieme alla sorella che anche la sorella viveva in una condizione di difficoltà allora casa ha voluto che io nella macchina avessi un pacco in più e allora c'è stato uno dei ragazzi più giovani che ha detto ma perché non diamo questo pacco adorarsi si chiama in modo tale che poi lo può dare alla sorella no? e allora sono rimasto veramente colpito di questa cosa e subito sono andato a prendere questo pacco adorarsi e in questo modo è bello perché anche loro possono rendersi utile e portare un po' di bene anche alle persone che conoscono e un'altra cosa bella è che specialmente con la famiglia di Sorbella Monata loro ci hanno permesso di entrare nella quotidianità ci hanno fatto conoscere un pochino le persone del quartiere ad esempio l'oculista che loro è un grande amico un'altra famiglia ed è anche un modo per noi per conoscere una realtà molto difficile piena di contraddizioni quindi questa poi è veramente una possibilità che prima di tutto è questa attività che facciamo molto gratificante però che fa anche conoscere degli spaccati di società veramente dove le contraddizioni sono all'ordine del giorno e difficilmente magari attraverso la televisione noi riusciamo a sapere a percepire ma invece andando lì personalmente le vivi e le senti e capisci tante cose e tante difficoltà ecco un pochino questo io penso che proprio questo percorso qui ci aiuta a comprendere quando il Papa sempre incontrando la realtà dell'economia di comunione ha detto che non dobbiamo semplicemente andare a curare le vittime di un sistema ingiusto ma bisogna cambiarlo il sistema perché se non cambiamo il sistema poi le vittime carnefici si riproducono di solito si dice che nessuno dice non sono assistente sociale invece qua tra di noi c'è un assistente sociale cioè Marta Chirico nasce come assistente sociale una generazione in Italia pensava di cambiare il mondo e quindi anche chi fa assente sociale ha una vina di follia un pensiero di questo genere qui e se lo porta presso pure quando porta avanti tutto quanto il lavoro di collegamento di promozione lavoro culturale il senso di città nuova vuol dire mostrare abbiamo mostrato la geografia dell'esclusione di una metropoli come Roma perché quando uno parla di quartieri parla di geografia dell'esclusione vuol dire che tu separi le città in questo caso è Roma Sud Roma Sud Est parlano anche in una certa maniera Roma parlano in maniera diversa da altri luoghi però chi è che vuole cambiare cambia anche perché dimostra un pezzo di città diversa cioè non sta dicendo quello che deve essere ma quello che c'ha è qui e ora e questa è la passione che porta avanti Marta e quindi il fatto di che tu ci puoi dire voglio dire come realtà di città nuova è anche capire perché si è portata avanti questo rapporto perché c'è questa rete perché voglio dire sul mondo delle carceri abbiamo creato abbiamo cercato non creato abbiamo creato uno spazio perché c'è una tale ricchezza di vita che non può essere persa che va condivisa prego Marta Buonasera a tutti è imbarazzante parlare dopo queste bellissime esperienze ecco perché c'è solo da ascoltare e da come fare come fa Davide cioè essere un ponte tra queste bellissime dimensioni e poi tutti quelli che non le conoscono cioè consentire a un numero più grande di persone di essere informate e di entrare in rete ecco questo è il motivo per cui abbiamo voluto attivare questi percorsi di incontro e questo bene relazionale di cui parlava prima Matteo anche tra tutti coloro che sentono fortemente questo impegno ecco del motivo per cui questa sera siamo qui e del motivo per cui anche Città Nuova dà così valore al vostro lavoro e al lavoro di tante persone che sono impegnate dentro e fuori le carceri ecco e noi abbiamo la speranza sempre di più che Città Nuova sia anche un luogo in cui i detenuti possano esprimersi le famiglie possono avere un luogo dove raccontare ecco quindi attraverso il vostro lavoro attraverso il vostro impegno noi speriamo di poter essere la voce di chi non ha la voce di questo popolo invisibile che ci appartiene ecco perché facciamo parte tutti della stessa società e io come diceva Carlo prima la speranza di poterlo cambiare questo mondo io ce l'ho ancora io non l'ho persa e quindi ho la speranza con voi di poterlo di poter fare qualcosa ma già appuntamenti come quello di stasera sono la testimonianza che qualcosa si può fare e sempre di più allargheremo questo cerchio ecco Carlo forse basta così sono al mio lunedì una trentina le carceri in Italia anche carceri anche di più forse calcolando anche le residenze associazioni familiari eccetera collegate quindi sicuramente l'interesse c'è e può crescere ecco per questa dimensione anche perché poi man mano che ci allarghiamo voglio dire come rete di conoscenza e questo strumento dovrebbe essere anche un invito scopriamo una ricchezza indescrivibile voglio dire piccole imprese che nascono nel carcere i rapporti anche perché è un mondo a 360 gradi come ci ha insegnato a suo tempo il magistrato Gianni Caso che aveva molta attenzione voglio dire nei confronti di una realtà che partiva da quello che ci lavora dentro in tutte quante le varie figure professionali voglio dire che sono anche quelli anche molto esposti quello che rischia voglio dire di usura e quello che sono i problemi strutturali delle mancanze degli investimenti poi si scaricano sulle persone come al solito che ci lavorano che stanno dentro che sono esposti a vari esaurimenti quindi la mancanza degli spazi ciò che viene denunciato e che va denunciato noi l'abbiamo fatto anche tramite un dossier che si chiama carcerati in un dialogo aperto per esempio con realtà come l'associazione Antigone saremo anche il rapporto con Radio Radicale con altri emittenti per esempio su Roma ci sono altri emittenti impegnati sempre su questo fronte e però appunto che cos'è io dire per una famiglia voglio dire come cosa è che va cambiato a voi come prospettiva anche perché voi avete man mano portato fuori il carcere fuori dalla città io quando sono venuto con voi la prima volta che avete citato innanzitutto l'impressione è questa separazione che il luogo è proprio brutto dove sta Castrogna è proprio un luogo terribile che sta anche dopo il terremoto siamo arrivati e c'era questa immagine dall'altra parte infatti è portare quel luogo fuori cioè riportarlo dentro la città questo è quello che avete fatto mi sembra che quel momento lì è stato un momento sacro io l'ho vissuto un momento sacro e poi man mano però vuol dire coltivarlo quel seme lì cosa come è cambiata la vostra prospettiva? Allora è vero che intanto la città si è avvicinata anche alla struttura per esempio noi abbiamo vissuto un giorno storico per Città Nuova che è il Città Nuova Day e in quel giorno come dire fatto in carcere è stato fatto perciò la mattina i detenuti che avevano fatto questo percorso di lettura di riflessione e scrittura perché la cosa pura interessante è che dopo il confronto verbale così di anima così poi qualcuno si prende la penna e scrive allora questo fatto io lo vorrei sottolineare perché lì abbiamo persone non acculturate abbiamo persone molto di cultura ma anche persone proprio che prendere la penna sarebbe l'ultima cosa che farebbero e in quell'occasione del C&A quindi diversi detenuti hanno proprio raccontato il loro vissuto scritto cioè raccontato e letto e sono venuti poi i giovani per esempio sono venuti gli studenti come dicevi prima tu i diciottenni di diverse scuole terramane ed è stato un momento fortissimo bene poi il pomeriggio però perché quella giornata non era soltanto ma era anche la città che viveva il Cittanova Day e noi grazie pure all'area trattamentale quindi anche alla fiducia che c'era i detenuti cinque detenuti tra detenuti e detenute sono riusciti a sette alla fine sono usciti e hanno partecipato a questo momento di incontro con la città allora è come se questa distanza non solo si fosse accorciata ma addirittura la città fosse entrata in qualche modo dentro quel carcere e viceversa il carcere fosse entrato nella città quindi come dire anche la nostra responsabile dell'area trattamentale dice io mi auguro che queste mura diventino trasparenti ecco quella è stata per esempio un'occasione in cui la trasparenza si è vissuta sì questo mi ricordo una giornata con particolare gioia perché è stata veramente un momento di grazia ma anche perché poi non è potuto uscire cioè il pomeriggio solo cinque sette erano andate all'incontro ma è stata tutta la preparazione a questo CN Day perché non è che è piombata così dal cielo questa giornata e quindi come loro si erano impegnati qualcuno aveva scritto ho detto forse non è il momento per te ma accettavano questo cambiamento questa collaborazione io credo che sia stato che siano stati momenti proprio di grazia perché ecco inizialmente si percepeva questo che la che la città chi è fuori di chi è dentro proprio se ne dimentica completamente usando un'espressione un po' forte è un po' il cimitero dei vini cioè sono là dentro dimenticati prima o poi qualcuno uscirà se esce come esce non gliene importa niente però non pensano che queste persone che poi escono se non sono riabilitate se non si dà la fiducia molto spesso dovranno torneranno a fare quello che hanno sempre fatto quello che sono stati abituati a fare questo è stato insegnato a delinguere quindi è un rapporto che deve crescere veramente in continuazione questa certo lo sforzo richiede è un po' uno sforzo però non disperiamo una piccola cosa forse nemmeno rientra nella l'importanza della rivista della lettura queste erano persone che non leggevano se leggevano leggevano giornali così non per carità in base ecco noi insomma riusciamo a dare più o meno tra le varie sezioni alta media protetti femminili circa oltre 70 riviste non tutte forse saranno lette però ecco questo spiega dopo un giorno stavo andando via quindi stavo mi stavo camminando lungo un lungo corridoio che è anche già da sbarre e cose così quando vedo un detenuto che corre esce dall'infermeria mi corre dietro e mi fa dottor dottor ma c'è una rivista per me beh guarda ti do la mia che avevo conservato una cartellina ma perché dico ma ti piace è una rivista favorosa io quando la reggo piaggio piaggio e mi sono commesso mi sono commosso perché magari io che sono abbonato da anni così delle volte forse non apprezzo tutto quello che c'è e questo mi ha lasciato veramente stupito e mi ha dato anche tanta forza per continuare perché non sempre diciamo i momenti sono non è che va sempre tutto bene però non si rispera si va avanti per esempio al femminile scusate se prendo scurto volevo dire questo al femminile che è anche da poco che sono due anni che andiamo avanti con gli incontri anche da lì da prima ai 15 giorni poi ci hanno chiesto di fare di più quindi ogni settimana si va per esempio ultimamente noi abbiamo letto un episodio la storia di Joy che come dire e tutte le detenute erano 12 hanno sentito questa storia a un certo punto c'era Jochi una ragazza di 30 anni che da prima rideva e scherzava poi a un certo punto ha cominciato seriamente a raccontare invece lo stupro che lei aveva visto di persona all'interno dei centri di accoglienza giù a Lampedusa allora questa cosa ha creato un silenzio fortissimo tra tutte non solo ma poi anche la la riflessione che ne è nata perché lì in fondo in quell'articolo alla fine lì si parla di risurrezione cioè di cambiare vita e questo fatto del cambiamento proprio come dire in tutte si è creato questo come dire ma allora è possibile ma allora si può quindi anche nei nostri confronti è nata come fosse scattata una maggiore come dire intesa ecco direi così e possibilità di complicità positiva nel senso che se ci mettiamo insieme siamo donne siamo madri siamo uguali non abbiamo non c'è niente di diverso e allora la vita può cambiare se cambia dentro le carceri anche fuori e città nuova diventa una compagna di viaggio io penso questo è una compagna di viaggio che in ogni momento non possiamo avere tra le mani non so io ecco è un'affermazione molto esigente voglio dire che ci chiamano in causa in maniera totale perché vuol dire ci compromettiamo dicendo una cosa del genere e quindi anche l'importanza di quello che viene espresso io non so Davide tu anche per il lavoro che porti avanti sei testimone di tante anche attività editoriali di radio di realtà estremamente generose che nascono però appunto quando si parla abitualmente di questa realtà mi soffiene sempre l'idea di quella lettera che scrisse Paolo Spriano almeno Spriano si chiama uno dei cappellani di Re Bibbia che disse che scrisse a Paolo gli disse guarda vieni però non venire annunciandoti vieni qua dai il documento entra vedi la realtà così com'è perché questa realtà è insostenibile così com'è perché non possiamo farlo quindi secondo te perché poi le immagini che noi ci arrivano da API dalla nostra site press oppure dalla press quelle che sono le nostre agenzie sono o se ci va qualche visita ufficiale quindi tutto quanto bello pulito preciso tutto quanto oppure ci sono le rivolte quindi c'è la distruzione fuoco l'altro secondo te tu hai tantissime storie da raccontare ma secondo te qual è la riforma essenziale che va fatta anche soprattutto in Italia che viene a metter carcere cos'è che non funziona perché se un mondo rimosso vuol dire che poi ci sono anche una mancanza di attenzione c'è chi dice costruiamo carceri più grandi oppure facciamo oppure la mentalità che dicevi tu cura forcaiola ma dall'altra parte le persone hanno anche timore nei confronti di una società di una malavita organizzata che più o due volte magari si salva e invece i poveri Cristi rimangono intrappolati perché il problema è che le diseguaglianze si ricreano secondo te dalla tua esperienza che cosa emerge come necessità di cambiare? Prima di risponderti vorrei dire una cosa perché ho ascoltato con molta molta attenzione e anche con tanta ammirazione la testimonianza di Matteo e Emanuele perché vivo lì di fronte vivo proprio di fronte a Torbella Monaca quindi conosco benissimo quel tessuto sociale perché lo vivo proprio tutti i giorni è vero che ci sto poco perché per motivi di lavoro però per questo veramente mi sento di di farvi complimenti perché due ragazzi che prendono sulle spalle assumono un impegno così importante in un tessuto sociale così disgregato come quello di Torbella Monaca poi chi non è di Roma magari e chi non è di questa parte di Roma magari conosce poco anche la eterogeneità di quella di quella di quegli spazi no? Voi considerate che Roma è suddivisa in 15 municipi ma ogni ogni municipio ha mediamente 200.000 abitanti cioè una città come Perugia quindi Torbella Monaca è una città nella città quindi posso immaginare lo sforzo ma ho visto anche tanta passione da parte di due ragazzi come voi quindi vorrei farvi veramente i miei più sentiti complimenti cioè chapeau rispetto a quello per quello che fate tutti i giorni e per la passione che mettete vengo scusate se ho preso un pochino di tempo alla risposta ma ci tenevo perché non è facile incontrare persone così motivate loro parlano di volontariato beh qui il concetto di volontariato è decisamente superato qui si parla di missione si parla proprio di vocazione cioè ho davanti a me due ragazzi che sono veramente hanno dentro qualcosa di diverso rispetto magari a ragazzi che conosco tanti ragazzi che conosco che magari hanno altri obiettivi loro invece ce le hanno alti gli obiettivi toglierei una R proprio a tutti gli effetti vengo alla risposta vengo alla domanda di Carlo diciamo la verità nel nostro paese dal mio punto di vista io quello che ho visto c'è troppo carcere e fino a quando la situazione rimarrà questa sarà impossibile ogni discorso di rieducazione di recupero di rinserimento si impongono dal mio punto di vista revisioni ampie ed organiche risposte anche in termini penali certo il compito non è facile perché l'illegalità è purtroppo a livelli troppo elevati soprattutto in alcune sacche stiamo parlando di Roma della città Torbella Monaca San Basilio o anche altre altre zone però ci sono le normative europee che impongono soprattutto al nostro paese anche risposte davvero importanti davvero adeguate è evidente che le misure tutte quelle misure che sono volte anche alla deflazione delle carceri mediante anche l'aperture a misure alternative dal mio punto di vista alternative ovviamente alla detenzione vanno incontro a una doppia funzione cioè quella di garantire condizioni più umane sicuramente per i detenuti che comunque sappiamo che versano in condizioni difficili ma soprattutto risultano anche più efficaci per il recupero anche di coloro che hanno magari commesso reati minori e che mediante un sistema anche di quella che noi chiamiamo e conosciamo noi detto lavoro di giustizia riparativa hanno più possibilità di non delinquere ulteriormente e questa è un'occasione che in carcere sicuramente verrebbe meno se continuassero a vivere in quelle condizioni è possibile una via d'uscita allora la testimonianza di Matteo di Amedeo e di tanti volontari che hanno il loro stesso obiettivo ci hanno detto e continuano a dirci che se il carcere è accessato in qualche modo di essere un luogo di emarginazione per diventare in qualche modo una realtà sociale e possiamo dire che si sta andando anche per certi versi verso misure alternative alla detenzione molto si deve a testimonianze a presenze come queste qua che abbiamo conosciuto stasera Luisa Amedeo Emanuele e Matteo perché nel tempo volontari continuo a a parlare di volontariato ma mi sono già espresso preventivamente è qualche cosa di più dobbiamo coniare sicuramente per quanto riguarda il carcere un nuovo un nuovo termine il volontario è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tanti ospiti lo abbiamo visto che hanno hanno compiuto un un radicale cambiamento sia nel pensare che nell'agire proprio grazie al volontario perché perché ha svolto un ruolo sostanzialmente innovativo per quello che è il sistema carcerario nazionale lo continua a svolgere in una concezione della pena che non è limitata alla detenzione ecco secondo me qual è la forza innovativa del volontario e la vicenda del coronavirus pur nella sua drammaticità attenzione ci ha confermato che il carcere lo ha confermato ai cellanti lo ha confermato e ce lo dicono anche tanti i nostri radioascoltatori può essere un luogo educativo anzi direi ri educativo dove poter anche esprimere continuamente una personalità attiva sia verso lo stato quindi verso l'universale che anche verso il particolare verso il gruppo i gruppi il gruppo e la società la scrittura a cui faceva riferimento prima Luisa è considerato da molti direttori attività trattamentale perché perché proprio diventa un elemento catartico perché per la prima volta riescono ad esprimersi anche con il loro modo ma hanno sicuramente un hanno la possibilità di percorrere il loro il loro vizzuto di esprimerlo di raccontarlo in maniera completamente diversa a un pubblico che comunque non ha la toga non è abbigliato in maniera tale o non ha il piglio o l'atteggiamento di colui che ascolta solo perché deve rientrare all'interno di un'attività processuale il carcere allora che cos'è come dovrebbe essere un territorio di frontiera che oggi sicuramente più che nel passato per rispondere a Carlo esige sicuramente un surplus di progettualità questo sicuramente per operare in favore della comunità non solo quella carceraria anche quella esterna perché è importante e allora il carcere in questo momento secondo me dovrà diventare proprio l'estrema razio cioè l'estrema razio di un sistema giudiziario e e la comunità in particolar modo la comunità cristiana noi parlo a casa nostra quindi dovrà in qualche modo fare la sua parte dovrà fare la sua parte soprattutto attraverso l'accoglienza attraverso la solidarietà e solo così sarà possibile dal mio punto di vista guardare con gli occhi diversi come fanno Matteo come fa Meteo come fa Luisa come fa Emanuele e al di là delle sbarre e superare appunto queste barriere granitiche dell'indifferenza e di cambiare anche dal mio punto di vista disinfettante perché si continua a usare la creolina che usava nonna e che per la prima volta quando sono entrato là dentro mi ha aggredito le narici e ancora oggi sento quell'odore hai disegnato sempre appunto questo percorso da portare avanti sempre più con coerenza con impegno comune e quindi questi vari appuntamenti che portiamo avanti sono come dire un incentivo a fare questo e quindi grazie veramente Davide per il lavoro che ho fatto avanti per come lo possiamo condividere sempre di più anche come tipo di analisi di proposta analisi e proposta che però chiederei anche ad Emanuele e Matteo perché appunto si è parlato di Tor Bella Monica ma per esempio abbiamo parlato a lungo per esempio di Tor più Bella di quelle che sono le realtà per esempio del Polo del Fienile della Scuola Popolare come abbiamo fatto un reportage su San Basilio che significa la libertà cioè questo luogo di San Basilio legato ad una rete di solidarietà molto viva che parte dai territori che è capace di farsi prossimità e che non vuole neanche essere etichettata sotto la categoria del volontariato come se fosse la figura dei bravi ragazzi o altro ma di persone che sono compromesse dentro la realtà per cambiarla da quello che è la vostra evidenza cioè Marta che è contenta di far vedere anche delle foto dell'attività quindi se mentre parlate possiamo anche se Marta vuole magari si possono condividere queste foto dire anche la vostra esperienza molto concretamente anche come percorso quale può essere magari ci esprimete queste foto magari ci riscrivete queste foto e poi magari ci dite qualche proposta prego intanto rispondo a Davide dicendo che per fortuna oltre a me e a me ci sono tante altre persone che collaborano magari molte persone non possono andare di persona in questi posti qui ma materialmente ci aiutano molto durante la quarantena da covid abbiamo aiutato materialmente queste famiglie sono venute tante donazioni e quindi è bello vedere che c'è una collettività che si muove verso queste persone io studio all'università facendo dottorato di filosofia politica e una volta un mio amico marxista mi fa beh però tu sai che volontariato alla fine sgrava la politica di un intervento magari perché voi cambiate la vita di queste persone più gioiose così la politica può non attuare politiche del lavoro scolastiche ma io gli ho risposto che devo ancora spiegarmi bene cosa sta accadendo ma come diceva bene prima Emanuele magari queste persone vedendo che noi siamo felici di donare donare il tempo donare noi stessi magari vedendo che siamo felici a loro volta mettono in atto quei comportamenti lì c'è Rosa questa signora che vedete a cui spesso portiamo dei bacchi anche con vestiti con indurmenti di vario genere lei ci dice portatemi anche roba che non metto io che poi la distribuisco alle persone intorno a me e quindi anche lei si rende partecipi di questa dinamica chiamiamo dinamica d'amore ma può cambiare le vite a me mi verrebbe da dire che veramente attraverso questa esperienza penso che ho avuto ho l'opportunità di maturare uno sguardo diverso anche su queste realtà che effettivamente sentendo un pochino le nostre esperienze uno può percepire qualcosa però poi andando concretamente in quelle situazioni ti accorgi veramente delle difficoltà e maturi effettivamente e conosci quel luogo e tutte le la disuguaglianza che esiste un pochino questo è quello che mi verrebbe da dire c'è bisogno veramente di impegnarsi concretamente e metterci il viso e ridare dignità a queste persone proprio insieme però noi non andiamo per loro insieme noi magari superiamo uno stigma nei confronti di queste persone insieme lo superiamo cioè queste persone alla fine rimangono persone alla fine il nome della società è sempre persona che dignità in queste persone quindi ci possiamo dire appunto che questa prossimità questa fraternità per dire questa parola terribile diventa un criterio di intelligenza per cambiarle le cose per esempio come su Villa di Bottina cioè riepire Villa di Bottina per esempio su Roma capire che c'è un disagio vuol dire voi intervenire sulla propria pubblica cioè dare strutture per possibilità di accesso ad una salute pubblica che viene di per sé negata in determinate aree di alcuni territori quindi il fatto di rendersi conto dell'esigenza non vuol dire semplicemente come dire metterci una pezza come ti dice oppure dare una risposta di carattere dovuto al buon cuore alla beneficenza di qualcuno significa innescare un modo nuovo quindi questo è quello che noi vorremmo mettere come dire in evidenza è dare un criterio altrimenti la città nuova non si costruisce si costruisce un'altra cosa quindi in questo senso vi chiederei appunto a Marta di aiutare questo incontro e darci anche le indicazioni su come possiamo rimanere collegati e poi le possono essere anche le prospettive ringraziando ciascuno e ognuno di questo momento prezioso che poi rimane sul canale YouTube e rimane come anche come uno strumento di approfondimento anche possibilità di poter continuare questo lavoro prego Marta ecco allora io intanto ringrazio tutti per aver partecipato vi lascio la nostra mail per rimanere in contatto e per poter continuare a dialogare e a condividere esperienze storie e anche a Davide che è un giornalista di Radio Vaticano immagino che tutte queste esperienze abbiano ovviamente stimolato in lui il pensiero di trasmissioni di possibilità di no di interviste di mettere in rete questa fraternità quindi rimaniamo in contatto se per qualsiasi cosa anche per idee successive per trasmissioni successive che possono coinvolgere altre altre radio perché no ma altri giovani ma altre esperienze ecco grazie allora grazie a ciascuno grazie 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 bravi ragazzi bravissimi saluto da te calurosissimo verso la capitale e grazie a tutti quanti qui nel mondo in Italia è quello che c'è che riusciamo a costruire grazie ancora ciao grazie buona serata buona serata buona serata